Dopo Martin Palumbo, la Juventus Nesk-Gene non scatterà nemmeno Michele Mersaggio. Per il centrocampista classe 2002, i bianconeri avevano dalla loro parte un diritto d'acquisto del Geno, che non verrà però esercitato entro le scadenze prefissate. Il giocatore, comunque, è molto apprezzato dal club e dalla dirigenza, tant'è che la volontà è quella di riaverlo anche nelle prossime stagioni. Per questo motivo è molto probabile che la Juventus cerca di trovare un nuovo accordo con il griffone per riportare a Torino il centrocampista, in scadenza, di contratto con il Rosso-Blu tra un anno. 39 presenze, 2 gol e 5 assist per il suo bottivo in seconda squadra, sotto la guida di Massimo Brambilla. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, campanella notifica e un commento. Ciao!